Musica Avremo un paio di presentazioni iniziali che ci aiutano a capire due cose Uno, ci ricordano, non danno questo contatto che tutti i presenti si ricordino e sappiano che cos'è un esempio di dialogo Alcuni di voi questa cosa l'hanno già sentita l'anno scorso, erano venuti colleghi dell'Emilia Romagna però non diamo questo contatto a questo concetto e quindi abbiamo invitato Teresa Spadea e il servizio di epidemiologia che si occupa di equità da anni a riorientarci su questo tema e poi ci sarà un intervento di Simonetta Ligua che invece ci ricorda cosa sulla scuola era stato fatto proprio dal Piemonte nell'ambito del CCM 2014 Dopodiché ci sarà dopo la pausa un grosso contenitore del quale presentiamo dati sulla scuola e poi discutiamo con voi di quello che è la situazione di Piemonte e quindi cominciamo a ragionare su come è la situazione e come potremmo riorientarci con un esempio specifico, ve l'ho già accennato prima, a Mila Head, i due interventi finali e poi ci sarà un'altra scuola